Luigi Di Maio è gay. Fidanzato con un 5 stelle, Sgarbi shock, ma lo disse anche Grillo. La rivelazione è stata fatta nel programma Quelli dopo il Tg, su Rai 2, ho scoperto che Luigi Di Maio è gay ed è fidanzato con Vincenzo Spadafora, suo responsabile per le sue relazioni istituzionali. Sgarbi ha continuato, è elogiativo, penso che essere omosessuale sia un elemento in più. Sono felice di avere finalmente un premier gay, così sereno, affettuoso sorridente. Non mi pare che ci sia da vergognarsi di nulla. Abbiamo leggi che tutelano le coppie gay. La notizia al momento non è stata commentata, ma la memoria torna a un discorso relativamente recente di Beppe Grillo che nel 2016, dal palco di un comizio a Nettuno, disse, la reazione contro di noi di questo sistema la sentiamo sulla pelle, ma è poco, mi aspettavo un avviso di garanzia a me, che scovassero della coca, che finalmente scoprissero che quellaltro, dice indicando Di Maio, è omosessuale. Ma non ci sarebbe niente di male, per l'amore di Dio. .